C'è comunque un contrasto che è proprio strutturale tra la giustizia e il diritto, cioè non è sistematico ma può succedere, cioè che il rispetto della legge non configura una giustizia come ce l'aspettiamo. Credo che il film più o meno parli anche di questo, perché l'ex poliziotto che uccide il tossico nel suo sistema di riferimento personale fa un'opera di giustizia, cioè fa quello che non è stato fatto, però compie un omicidio, però fa qualche cosa contro la legge. Non è infrequente il caso in cui appunto l'esigenza di giustizia confligge con l'idea di diritto, cioè con il rispetto delle leggi come ce le siamo date. E questa è un'altra complessità della vita, bisogna avere un po' di pazienza e non è facile avere questo tipo di pazienza, perché quello che ti dici a te personalmente è che ti è stato fatto un torto e anche se ti appelli alla legge non riesci a vedertelo almeno qualcuno che scrive, dice sì effettivamente lei ha subito un torto, no tu sei trattato come se il torto l'avessi fatto e questo è duro da sopportare, però la strada, come ho detto anche prima, la strada della giustizia personale, cioè della soddisfazione personale della tua esigenza di giustizia è una strada senza uscita, ma non va bene nemmeno per te, se si potesse vedere il giorno dopo dello sparo dell'ex poliziotto non avrebbe risolto niente della sua vita distrutta, non avrebbe ottenuto nulla. Mi ho sentito parlare proprio nella facoltà di giurisprudenza di Tor Bergata a Roma a commento di un film che ho girato il tempo fa sulla questione dell'amianto, quando in quel processo all'Ethernit, prima furono considerati colpevoli i padroni dell'Ethernit e poi un'ulteriore sentenza li assorse, tutti gridarono allo scandalo, hanno comprato, hanno venduto, pubblico, eccetera. Beh, ma non è proprio così semplice, perché il diritto deve configurare un reato, deve punire un reato che è stato dimostrato, dimostrare che i padroni dell'Ethernit fossero realmente responsabili delle morti di tumore da amianto, l'epidelioma. Non è possibile, l'epidelioma ha un tempo di latenza di vent'anni, quindi non si sa quando è stato contratto e se non si sa questo non si sa qual è la persona materialmente responsabile, il direttore tecnico di quali anni, per esempio, di quella fabbrica. Il padrone ha una responsabilità morale vaga, ma questa responsabilità non configura un reato punibile, perseguibile, almeno questo io ho capito. Ed è una cosa che ti rimescola il sangue, perché dice, ma come? Questi sono andati avanti per anni, sapendo, e non si possono punire. Non è facile punirli, bisogna creare un reato apposta, un reato di strage, cioè che per esempio non ha bisogno di quel tipo di di corrispondenza, così puntuale tra la responsabilità, no? Cioè che ha bisogno di comprovare una responsabilità diretta. Vabbè, ho finito. Vabbè, con il confo della fisica, chiudiamo qui la serata, regalando così, come ricordo, una maglietta del Sud Estival a Giorgio Colangeli, vediamo qui, e questa qui perché molto è naturalmente Marco Bocci.